Uscire, ascoltare, abitare. Si muoverà lungo questi tre binari il percorso che intende avviare il movimento L'altra ala presentatosi questa mattina nella città di Barletta. Perché non serve a nulla lamentarsi di ciò che funziona male in una società, ha sottolineato il suo presidente Antonio Gorgoglione, se non si è in grado di farsi carico della responsabilità di migliorarla con azioni concrete di solidarietà civile che risveglino coscienze, progettualità e speranze di futuro. La nostra idea è quella di partire proprio come ala di riserva, quindi uscire dal nostro piccolo, uscire dalle nostre case, dai nostri mondi, dal nostro lavoro per ascoltare la gente, ascoltare la cittadinanza, quindi ascoltare il popolo di Barletta e insieme cercare poi di abitare la città. Cosa vogliamo dire con abitare la città? Abitare la città significa viverla, significa dare voce a chi non ha voce, significa cercare di essere dei buoni ascoltatori, quindi mettersi veramente in ascolto perché notiamo che oggi il problema più grande sia la mancanza di ascolto degli ultimi, soprattutto di chi vive nelle periferie urbane ed esistenziali e cercare poi di dare delle soluzioni a questi problemi. Vogliamo tornare ad abitare la nostra città che da ormai troppo tempo probabilmente noi cittadini non abitiamo più in quanto abbiamo totalmente delegato ma ci siamo dimenticati che abitare la città significa anche impegno e questo gruppo di amici, questo gruppo di persone rappresentate da uno spaccato della società la più ampia che io rappresento e sono onorato di rappresentare come presidente vuole proprio fare questo, vuole tornare ad abitare la città e interessarsi dalla cosa comune. Tra gli animatori del movimento ci sono ex politici di primo piano della città ma l'altra ala rimane un contenitore apartitico dalle solide radici cristiane. Se ce ne sarà occasione ci confronteremo con l'attuale classe politica locale conclude Gorgoglione ma solo per dare un serio contributo allo sviluppo della nostra città. Certamente ci vogliamo confrontare con la politica barlettana certamente oggi la classe politica barlettana, maggioranza ma anche opposizione sta governando questa città e quindi vogliamo essere propositori quindi vogliamo lavorare per e non lavorare contro non lavoriamo contro, non vogliamo operare contro nessuno vogliamo lavorare per a condizione che ovviamente la classe politica barlettana si prenda sulle spalle e si carichi sulle spalle i problemi di questa città e insieme cerchiamo di risolverli. Questo è il nostro proposito e speriamo che così venga accolto e recepito anche appunto dall'interlocutore e quindi dalla politica locale.